a Bologna poi nel superclassico contro Venezia ha dato quasi 20 punti e più alla squadra però c'è sempre un avversario contro adesso è Bove che tira da tre segna in uno contro uno ancora il tiro aperto per Bove e altra bomba di Bove la palla alla fine ritorna a campo basso e quando si tratta di andare a prendere i rimpalzi 9 di media partita per lei intanto cane palla in mano ancora Bonasia cercala il cameriere Bonasia con questo lay up per Schio Campobasso sta concedendo tanto nel frattempo Bonasia insomma risaputa purtroppo la settimana scorsa è venuto a mancare il fratello nel frattempo di Critch un tetto abbastanza piccolo questo che adesso a Sabatelli sul parquet questo è il tiro di Voita e infatti arriva il canestro ancora Bonasia passa sul blocco tiro non semplice però ora Voita Voita vuole il tiro da tre il tiro c'è c'è il canestro qualcosa il tiro da tre da parte di Voita altro canestro dell'americana cento per cento da linea da tre ora pallone sotto per Gorini che si fa spazio ora Tikvic ancora per Bonasia Bonasia vuole un tiro da tre che non c'è e quindi vada Gorini e Gorini invece Tikvic in punta palla per Gorini Gorini va in penetrazione arresto dalla lunetta Gorini il pallone poi arriva a Voita che deve segnare da lì e infatti lo fa Gorini vediamo se se la vuole giocare la palla giù invece per Tikvic Tikvic deve giocarsela sotto canestro e segna un canestro davvero difficile qua ora Bonasia prova a correre c'è un cambio un mismatch contro Keeves e allora si rifugia da Tikvic che deve giocare sotto canestro movimento purissimo errore con Voita che va al tiro da tre punti Voita con Voita che cerca ancora Bonasia il tiro da tre da parte di Bonasia Bonasia Tikvic Tikvic uno contro uno ancora Tikvic si gioca questo possesso Tikvic poi Voita vorrebbe forse il tiro da tre si arresta il tiro di Voita c'è c'è il pareggio pubblico o meglio le poche persone presenti qui si alzano in piedi e applaudono perché davvero Campobasso ha giocato una partita stupenda la Magnolia ha fatto una figura davvero spettacolare davanti a Schio davanti al pubblico di casa che ha seguito chiaramente il la partita per televisione ma anche davanti al pubblico di Schio abituato a uno squadrone come quello Veneto che oggi ha visto una squadra quella molisana che ci ha messo il cuore ci ha messo l'anima ed è andata veramente vicinissima ad un'impresa che sarebbe stata eclatante sarebbe stata storica Grazie a tutti Grazie a tutti